Gentili telespettatori, buona giornata. Quello che racconta la Meloni mi ha lasciato un po' inquietato, insomma. Speriamo non sia vero, perché adesso ve lo racconto, anche voi rimarrete un po' così. Dice così Giorgia Meloni, intervistata da Paolo Del Debbio, a dritto e rovescio su Rete4. Perché qualcuno avrebbe fatto dei commenti su Giorgia Meloni e dice la Meloni che questa roba qui è veramente misogina. Prima di tutto io sono convinto che il 95% delle persone non sappia che cosa vuol dire, che cos'è la misoginia. Il termine misoginia indica un sentimento e un conseguente atteggiamento di avversione o repulsione nei confronti delle donne. Manifestatamente da parte di uomini o altre donne. Quindi questo tipo di avversione, la misoginia, può essere da parte di chiunque, donne, uomini o quello che è, viene anche utilizzato il termine misogino per indicare colui che ha una visione degradante delle donne. Il misogino è uno che giudica le donne in una maniera non certo lodevole. E la Meloni dice ma questa roba qui è veramente misogina. Perché? Giorgia Meloni dice leggevo l'altro giorno su un sito l'avvertimento Meloni attenzione alla tenuta psicofisica. Psicofisica. Secondo cui questa sarebbe una sorta di offesa. Come a dire che siccome sei una donna non ce la farai con la testa. Ma siamo sicuri che Meloni attenzione alla tenuta psicofisica sia una cosa di misoginia o un insulto gratuito e basta. Perché non c'è scritto visto che sei una donna attenzione alla tenuta psicofisica ma c'è scritto Meloni attenzione alla tenuta psicofisica. La tenuta psicofisica cosa si intende? Fisica come dire faticoso quello che stai facendo potresti non farcela più e anche faticoso mentalmente potresti non farcela più. Però la Meloni lo interpreta come sei una donna non ce la farai con la testa. E poi aggiunge dire che siccome sei una donna non ce la farai con la testa mi ricorda quando all'inizio della storia repubblicana in Parlamento si discuteva del fatto che le donne non potessero fare il magistrato perché una volta al mese avevano il ciclo e diventavano isteriche dice la Presidente del Consiglio. Ecco la sinistra italiana evidentemente è rimasta lì ma quello che so io e tutte le donne di questa nazione è che per le difficoltà che tutte le donne affrontano hanno una tenuta di testa che spesso altri non hanno. Allora la Meloni si riferisce a un giornale di sinistra che avrebbe scritto Meloni attenzione alla tenuta psicofisica. La Meloni dice lo dicono perché sono una donna. Però la domanda mia che non so a quale giornale si riferisca quindi non posso andare a controllare perché non so su quale giornale è. Ma nell'articolo Presidente del Consiglio mi dica ci dica che poi tanto non me lo dirà mai ovviamente ci dica ci dica ma nell'articolo c'era scritto che lei doveva stare attenta alla tenuta psicofisica in quanto donna o in quanto donna non c'era scritto perché cambierebbe poi tutto cambierebbe tutto. Perché se hanno detto attenzione a Meloni visto che lei è donna attenzione alla tenuta psicofisica è un conto. Se hanno detto Meloni attenzione alla tenuta psicofisica senza dire perché sei una donna cambia completamente. Il primo è misoginia ragione ma se nell'articolo non c'è scritto perché sei una donna allora non è misoginia ma è semplicemente il solito giornale di sinistra che parla vanvera, che blatera vanvera. Ecco questo è importante. Poi la Meloni dice per le difficoltà che le donne affrontano in questa nazione la tenuta di testa che spesso altri non hanno però non andiamo a finire poi nell'opposto nel senso nel dire che le donne sono migliori degli uomini che hanno più testa degli uomini. Perché insomma se una donna si sente offesa giustamente perché ci sono atteggiamenti misogini poi non facciamo l'opposto con gli uomini. La donna è superiore perché ha una capacità intellettiva. Ecco insomma allora non bisogna né offendere l'uomo né offendere la donna. Visto che siamo sotto la copertura del politicamente corretto non è che la donna può offendere l'uomo e l'uomo non può offendere la donna. La cosa deve essere reciproca se no non c'è parità. Politicamente corretto è anche parità. Quindi se ci deve essere questa parità la donna non offende l'uomo e l'uomo non offende la donna. E amici come prima. Giusto o no? Eh le cose bisogna dirle. Eh insomma però attenzione. A quel punto il giornalista le ha chiesto. Non è che farà un decreto legge sull'abolizione del ciclo? E guardi se si potesse dice la Meloni che poi ha continuato. E qua volevo farvi un altro video perché c'è una cosa inquietante che ve la racconto. Nel prossimo video perché accusano la Meloni di qualcosa di particolare. Di particolare che solo la Meloni ci può dire se è vero o i suoi stretti collaboratori. Mi raccomando nel senso che non si dice queste cose sulle donne e le donne non devono dirle sugli uomini. Perché se vogliamo davvero che il mondo cambi e che uomo e donna siano uguali in tutte le cose allora non bisogna cadere nel tranello che l'uomo può essere insultato perché tanto è l'uomo ma l'uomo non lo può fare con la donna perché è guai. Quindi mostro bisogna equilibrare bene le cose non si insulta né da una parte né dall'altra quindi non c'è chi è migliore o chi è peggiore. Va bene ci vediamo al prossimo video su qualcosa di molto strano tra una cinquantina di minuti ci vediamo per il prossimo video. Arrivederci a tutti e grazie. Grazie.